Aspetta, dai, aspetta, prendi qui. Guardate. Dai, dovete mettere sotto la fanchina. Sì, le mettiamo sotto la fanchina. Allora le lascio qua dentro, per maggiunque le togliamo. Sì, sì, dopo le togliamo. Dai, si deve vedere bene. E c'è davanti l'Ari. C'è davanti l'Ari, hai risposto. Guardate, sono qui. Finalmente è una cosa separata.